Ciao, ho preso il terzo o il secondo, oddio non mi ricordo, il photobook di Kento Yamazaki questo è il davanti, questo è il retro, oddio che è sta cosa? ok, allora c'è la fascetta, ok, abbiamo la sovracopertina, ok, iniziamo benissimo qua iniziamo alla grande, come lasciarci le penne già, ok, 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 oh, metti a fuoco, no eh, mi odi, il cellulare mi odi, lo so che, mamma mia, oh, no, oddio che buone, le ciampelle, che patato, wow, oh, che bella questa, oddio anche questa, pure questa, oh, quanto è carico, quanto è stupido però, che dolcezza, che riva i denti, ah, ma la maglietta della copertina l'ha disegnata lui, wow, e ma, e ma, bene, oddio anche qua, cioè, no, cioè, no, guardate, cioè, no, 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 questa cosa è illegale, cioè, no, 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 ma è un cranchio, è un mini cranchio, ma è bellissimo, io sto invidiando un cranchio, comunque, e, va bene, che, 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 no, cioè, no, che, 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 eh, ecco, e, va bene, no, cioè, ma non possono farmi sti primi piani, cioè, ecco, nella giungla è la più, oddio, eh, va bene, ciao, eh, 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 no, 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 sto photobook è deleterio per la mia sanità mentale, metti a fuoco, ok, e, comunque, assomigli a Sonjunkie, cioè, dai, ci assomigli, cos'è sta co-co-co, perché? perché stai avendo a che fare con un, cos'è, un toro, una specie di toro? e, vai, bagnino, una balena spiaggiata, questi sandali sono orrendi, cioè, no, che bel posto, un compenso, chissà dove, un buon, avrà in Giappone, no,mio, no, 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 hanno, no, 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 wow, qui dove è? bella gamba bella gamba oh che bella questa anche questa pure questa anche qui oh no mamma questo fotobook è bellissimo anche no ma perché è sempre a torso nudo sto tizio che bella questa ecco finiamo in bellezza ecco no finiamo in bellezza ecco qui che stira è così questa sì che è meglio che bella però wow che carino wow questo è il fotobook è fantastico cioè chill